Qui siamo a Kurada. Qui siamo a Kurada, la località in comune di Canossa, ex cianodenza, noto per la spiaggia di budisti. Fiume, l'indicazione, scendiamo. Abbiamo scelto una giornata piovosa. Vedete qua, il divieto di balneazione, eppure c'è il centro di mare. Si percorre questa strada, Kurada. Ci sono anche case normali, persone assolutamente normali, e poi laggiù, laggiù, andando, 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 andando. Qua finisce l'asfaltatura. Si avanza, si avanza, vedete fin qua. Laggiù, non laggiù, più avanti. Eccoci qua allora. C'era l'asfaltatura. Qua vengono, qua più avanti, più avanti. Ecco qua andando avanti mezzo chilometro. Insomma, mi hanno scelto la giornata peggiore, ma questa è la famosa spiaggia per nudisti. Mi raccontavano due signore che prendono il sole come mamma le ha fatte. Laggiù invece, laggiù invece ci sono macchine, c'è un signore. Insomma, situazioni ambigue. Ci sono persone che cercano, beh, gay. Insomma, e questo è il famoso currada. Poi c'è l'ido di Dante in Emilia Romagna, ma molto più noto e anche più trafficato. Laggiù, laggiù in particolare. Quindi siamo a Canossa.